Claudia è sussitata ciecamente di me. Anche la location l'abbiamo scelta in videochiamata. Per quanto riguarda i decori floreali, vi ho fatto vedere in una sola foto. Le metto va benissimo, per il resto non vuole sapere nient'altro. Effetto sorpresa come gli ospiti. Speriamo di esserci riusciti. Lo vedremo più tardi. Speriamo di esserci riusciti. Grazie a tutti.